Senti che ti fuggono quelli dei tempi. No, no, non è nemmeno. E' un po' di cosa. Ma sei tu che non sei mai detto. Sì, sì, sto facendo i tempi. E lo giù, vedremo. Un genere questa cosa, forza. Lo sai per cosa pregano la sua, per il suo tasso? Abbiamo scoperto che il tuo tasso è la chiave della vita. Tutto quello che devo fare è disanguarti, votare i giornali, io potrò andare a spazio. Quindi direi, faccio sentire che tu vuole parte di me. Sì, 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 sì. Ci devo fare. Questo è un momento che mi deve essere per il terreno. Un momento. Tutto bene. Io so. Va bene, è lei, è io. Sì. Io. Più che altro. Sì, sì. Ci sono. Più che altro. Più che altro. Il nostro canale.